Mercoledì 17 ottobre, benvenuti a tutti a CiperTV, la classe di oggi inizia con un riscaldamento in coppia, mentre un atleta fa 500 metri sul rower, l'altro atleta si fa 500 metri di corsa, chi prima arriva aspetta l'altro, ci si scambia e così avanti per 5 round, non male come riscaldamento. A seguire abbiamo 4 volte 3 round da 3 minuti di lavoro e da 3 minuti di rest, dove faremo overhead squat e bar piece, il primo round ne faremo 21, il secondo round ne faremo 18, il terzo round ne faremo 15, il quarto round ne faremo 12. Non troviamo il gobbo e quindi devo usare la cartelletta, a parte questo tutti i carichi li trovate sulla grafica qui di fianco, ci vediamo domani per il Team World.